L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Don Michele Arena comprende i seguenti indirizzi Manutenzioni e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi commerciali e odonto tecnico Vi aspettiamo! Ci troviamo al Civico 33 di Via Santa Caterina, praticamente il centro storico, il cuore del centro storico di Sciacca la zona medievale per eccellenza, qui vicino ci sono tante belle chiese, la chiesa di San Nicolò la Latina e ci arriva una segnalazione da parte dei cittadini che abitano appunto in questo luogo dove i ratti l'altro giorno l'hanno trovati perfino davanti alla porta una situazione che si potrae da tanto tempo, questi topi si aggirano negli angoli dove non sono stati scerbati escono dai tombini e come la signora Caracappa c'è chi è esasperato non ne può più veramente Che cosa succede signora? Sempre, giornalmente quando c'è tranquillità e cose, attraversano la strada, girano Come se nulla fosse Come se nulla fosse, sì Voi avete provato anche qualche sistema vostro per rimediare, ad esempio qui c'è un tombino L'abbiamo chiuso, stando attenti a quando piove di aprirlo e naturalmente, ma non... Avete più volte segnalato questa situazione, insomma i ratti qua veramente sono tantissimi avete anche paura, vi chiudete a casa Stiamo attento prima di aprire, uscire, entrare L'altro giorno addirittura proprio il ratto è stato fotografato davanti a questo civico di questo portone Sì, sì, proprio quasi nel marmo Praticamente qui attorno c'è molta spazzatura anche, aree senza cerbatura, erba e voi dite si nascondono proprio lì Sì, potete vedere benissimo lì di fronte la scuola che è tutto pieno di erba C'è anche la scuola proprio qui davanti, è l'istituto Scaturro e ci sono le erbacce e voi dite che i topi proprio li vedete uscire da lì Sì, sì, camminano tranquillamente Chiedete un intervento immediato di pulizia di tutta la zona Possibilmente